Come ci si amava a Pompei prima che il Vesuvio la seppellisse? Vi mostreremo i colori dell'emozione e le forme del desiderio. L'eros gioioso e un po' spregiudicato che si viveva qui a Pompei. E cercheremo una spiegazione provando a pensare come gli antichi. Pompei senza veli, mercoledì 13 novembre alle 21.15 su Focus.